Insallare defibrillatori in tutti gli uffici del Comune di Taranto è la proposta lanciata dal Consigliere Comunale della Lega Francesco Battista per adeguare la città alla legge sui dispositivi salvavita e intervenire prontamente anche negli uffici pubblici in caso di arresto cardiaco. La mozione verrà discussa nella seduta del Consiglio Comunale in programma venerdì 10 marzo. Una legge del 2021, la numero 116 per la precisione, obbliga gli enti statali, quindi province, comuni e regioni ad adottare appunto dei sistemi di prevenzione i cosiddetti defibrillatori semi-automatici e automatici, quindi c'è l'obbligo negli uffici comunali in questo caso, comunque negli uffici pubblici di installare questi dispositivi salvavita proprio negli uffici comunali, in questo caso la mia richiesta è di installare negli uffici comunali con più di 15 dipendenti e dove gli uffici appunto sono aperti al pubblico. Questo è chiaro che è un modo di prevenire le malattie o comunque sia gli attacchi cardiopulmonari e quindi salvare la vita eventualmente ai cittadini o ai dipendenti comunali stessi, vedendo di usufruire anche di un fondo nazionale previsto dalla legge 116. Se questi fondi non sono più disponibili perché mettono 2 milioni di euro annui, eventualmente appunto metterli a bilancio perché innanzitutto si dovrebbe rispettare questa legge dello Stato e in secondo luogo è comunque in ogni caso un modo per poter prevenire appunto la morte improvvisa che causa ogni anno circa 60.000 morti in Italia.